Cyberdipendenza per gli adolescenti, la metà di loro davanti al computer perde la cognizione del tempo. Spoglierello di classe, trovato un sito di adolescenti, alunne delle medie in pose hot su internet. Sono agghiaccianti notizie di cronaca che riguardano i minori in rete, confermati dal sondaggio Ipsos 2011 sui comportamenti dei teenageri italiani. Secondo le statistiche, il 50% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni chatta quotidianamente con persone conosciute su internet. Il 14% di loro distribuisce materiale di persone seminude o nude. Il nostro motto è dai mondi virtuali confine delle realtà, proprio perché il problema nasce nel momento in cui c'è questo scontro, cioè quando dal pc o anche dal telefonino si passa al mondo reale e cominciano ad essere dolori per grandi e soprattutto per i piccini. Noi ci occupiamo dei ragazzi, dal cyberbullismo, quindi dagli articoli penali che prevedono le ingiurie. In questo momento abbiamo dilagante il sexting, quindi l'invio di immagini che vengono fatte molto spesso nei bagni o nelle camerette delle ragazze che poi inviano ai loro amici. E poi abbiamo il pericolo più grave che è la cyberpedofilia, quindi l'adescamento attraverso la rete, dove le differenze in questo caso le fanno chi dall'altra parte della rete sa già dove vuole arrivare. Dietro i titoli di cronaca c'è però la quotidianità poco visibile, ma non meno preoccupante di tanti genitori poco esperti del funzionamento di internet, che per questo non riescono a seguire i propri figli. Proprio a questo scopo nel 2009 è nata in Veneto Bimbi in Rete. L'associazione, formata da personale esperto in privacy e informatica giudiziaria, affianca il lavoro della polizia postale e forma docenti e genitori. Per otto genitori su dieci la rete non è pericolosa, quindi molto spesso non sono vicini ai propri figli, non sanno educare i propri figli, perché è un mondo nuovo anche per loro, lo considerano un gioco, quindi sono latitanti. E la rete è un mondo come tutti i mondi, nel senso che la rete è un mondo a tutti gli effetti, dove c'è il gioco, dove c'è il piacere di conoscere persone, ma dove ci sono anche delle persone che delinquono. Bisogna spiegare ai genitori che la rete non è così semplice come sembra. Al di là dello schermo di un computer si possono trovare delle persone che hanno tutt'altre intenzioni rispetto al gioco o al conoscere. Diciamo quanti minori utilizzano la rete anche per andare nei siti vietati ai minori? Tantissimi. Pochissimi genitori mettono un filtro per la navigazione, poi però ci sono delle pagine anche all'interno del social network tipo Facebook oppure nella rete dove si trovano delle cose assolutamente ben peggiori di quelli che sono i siti vietati ai minori. Immagini che sono raccapriccianti, che i nostri ragazzi vedono e vivono con molta serenità, anche perché la televisione è piena di film trash, dai vampiri ai film horror. Quindi per loro vedere anche delle immagini che a noi danno assolutamente fastidio per loro è una cosa normalissima, perché le vedono su uno schermo del computer quindi per loro rientra sempre nella finzione cinematografica. Mentre noi che le vediamo sappiamo, visto che viviamo il mondo reale molto più attivamente di loro, di cosa si sta parlando.